Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i triatleti. Siamo qui a Davigliana in questa splendida location con questo stupendo lago alle mie spalle. Ad agosto quest'anno ci saranno a Torino i European Master Games e la gara di triathlon sarà proprio qui sul lago alle mie spalle dove ci sarà la partenza della frazione a nuoto. La gara da Davigliana è una gara storica nel calendario delle gare italiane di triathlon in quanto è una gara che è già presente, era già presente nel 1989. Quindi vi auguro un ottimo divertimento e vi prego di venire tutti a gareggiare qui a Torino. Grazie.